Dal Vangelo secondo Luca Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimosta dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro, in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea e diceva Bisogna che il figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocefisso e risorge il terzo giorno. Ed esse si ricordarono le sue parole e, tornate dal sepolcro, annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Erano Maria Maddalena, Giovanna e Maria, madre di Giacomo. Anche le altre che erano con loro raccontavano queste cose agli apostoli. Quelle parole parvero loro come un maneggiamento e non credevano ad esse. Pietro tuttavia si alzò, corse al sepolcro e chinatosi, vide soltanto i teli e tornò indietro, pieno di stupore per l'accaduto. Cari amici, buona giornata. Questo è un giorno di silenzio. Addirittura non ci sono particolari celebrazioni liturgiche se non quella legata alla liturgia delle ore. È giorno di silenzio e anche un giorno che possiamo dedicare a una buona e santa confessione. Un giorno che dice l'attesa. La terra arriva a far germogliare il suo salvatore e la sua salvezza. Il chicco di grano, posto sottoterra, germoglia, cresce, manifesta la vita nuova. Allora viviamola questa attesa. È giorno di silenzio. Nella Chiesa antica era giorno di digiuno, in particolare per coloro che poi avrebbero ricevuto i tre sacramenti dell'iniziazione cristiana durante la veglia pasquale. E mentre attendiamo di accendere il grande fuoco, di cantare l'esultanza, di riconoscere una storia di salvezza che trova il suo compimento nella risurrezione del Signore, di celebrare l'acqua che ci libera dal peccato e ci fa risorgere con Cristo a vita nuova, di condividere il pane dell'Eucarestia, il sangue che ci dà salvezza. Mentre ci prepariamo a tutto questo, vogliamo godere del silenzio. È giorno in cui si deve soprattutto tacere, fermarsi e metterci davanti alla tomba di Gesù, al suo sepolcro. E chiedere al Signore che anche la nostra vita diventi sepolcro capace di rifiorire, altrimenti rimarremo sepolcro pieno di marciume e di animale. Chiediamo grazia di risurrezione nel silenzio di questo giorno, nell'attesa di questo giorno. Abbiamo condiviso la passione e la morte di Gesù in croce, siamo entrati nel grande silenzio. Ci prepariamo, attendiamo di partecipare alla sua gloria. Buon Sabato Santo! 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 Buon Sabato Santo!